Le vie dei tesori e i suoi risultati straordinari che neanche i più ottimisti avrebbero immaginato. Il contatore delle visite totali che si è fermato a circa 365 mila, l'indice di gradimento al 95% e al 61% il numero dei nuovi visitatori attirati dall'eco della manifestazione. Palermo e tutte le altre province, la Sicilia è una rete che ha superato lo stretto probabilmente ponendo le basi per l'esportazione del format l'anno prossimo. Abbiamo fatto questo piccolo progetto pilota in Lombardia che è andato molto bene e che probabilmente l'anno prossimo si allargerà una serie di altre città, Venezia, Livorno, Roma, sono già pronte a partire ma in realtà il cuore della manifestazione è e resterà qui a Palermo dove è nata, in Sicilia. Siamo intorno ai 370 mila visitatori in tutta la Sicilia perché significa che i cittadini hanno una gran voglia di riprendersi la propria storia, le proprie radici. Il 95% delle persone intervistate enfatizza positivamente questa manifestazione, quindi un feedback positivissimo. 130 siti da visitare, fra i primi per numero di ingressi la palazzina cinese, Palazzo Alliate, al primo posto un vero e proprio outsider, il rifugio antiaereo. È un luogo strano, io dico sempre, non è né un luogo artistico né un luogo bello, è un luogo triste che suda ancora le gocce delle memorie. Penso che io non mi soffermo su questi numeri, anche se mi fa piacere vedere che è in testa, perché vuol dire che c'è un interesse crescente su un tema che molto spesso viene quasi dimenticato, una storia che a noi ci sembra lontanissima, ma sono passati soltanto 75 anni, è la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori che hanno vissuto sotto le bombe. La conferenza conclusiva è stata fatta proprio all'interno del carcere Uciardone, aperto anche ai visitatori delle vie dei tesori, che nei weekend hanno incontrato detenuti artisti coordinati da Lollo Franco e adesso il sindaco Leuluc Orlando lancia la sua proposta per il prossimo festino di Santa Rosalia. La proposta che noi facciamo è che il carro del festino 2019 sia opera dei detenuti. Grazie.